Quali obiettivi sono gli obiettivi? Da questo punto di vista. Quindi il nostro atteggiamento è un po' come le famiglie che hanno i nostri studenti in casa. Ecco, e si consolida negli obiettivi l'ingresso nella top ten delle università italiane. L'Upo è nelle top ten delle università italiane. Sì, questo è un risultato che ovviamente ci onora e ci premia degli impegni e degli investimenti che abbiamo fatto in questi anni, soprattutto nel campo della ricerca e della definizione e realizzazione delle sedi per dare appunto visibilità, ma anche ospitalità ai nostri studenti. Sono stati in particolare gli ultimi cinque anni degli impegni non indifferenti che ci hanno portato a questo risultato. Il nostro obiettivo era quello di mantenere già l'ottimo risultato delle valutazioni degli anni scorsi. Evidentemente i trend che abbiamo intrapreso, le dinamiche di accelerazione che abbiamo tutti assieme, vorrei dire questa comunità, non è il rettore in questo caso, è anche il rettore, ma è la comunità scientifica e didattica del Piemonte Orientale, che ha dato in questi anni hanno portato a questo risultato. Siamo fortemente, siamo convinti che dobbiamo continuare in questo sviluppo, in questo processo, in questa intrapresa comune che abbiamo allestito. Ecco, professore, diamo qualche numero. Quanti iscritti e la percentuale dei laureati? Ma dunque, i nostri iscritti oggi sono 13.000. Molte classifiche riportano 11.500-12.000 studenti, a seconda di come vengono letti e considerati gli studenti. Tenga conto che per il Ministero e per un calcolo di carattere economico e organizzativo i fuoricorso non vengono considerati, ma tutti gli Atenei hanno dei fuoricorso. Quindi noi, il dato reale è che sono 13.000 studenti. Il dato invece ministeriale sono di meno per una serie di queste ragioni che citavo in precedenza. Così come non vengono presi in considerazione gli studenti che si iscrivono in un'altra università e poi si trasferiscono, insomma, è legato, come posso dire, alla contabilità del fondo di finanziamento ordinario il dato. Però quello reale è 13.000. Laureiamo di circa il 35% dei nostri iscritti ogni anno. È un dato in controtendenza o comunque più alto rispetto alla media degli Atenei italiani e tuttavia credo che sia indiscutibile che se ne perdano ancora troppi per strada nell'università italiana. E questo è un impegno che noi abbiamo assunto nei nostri progetti, cioè quello di alzare il numero di laureati sugli iscritti e sugli immatricolati, mettendo in campo proprio da quest'anno delle iniziative specifiche, rivolte a seguire la carriera degli studenti e anche a valutare le ragioni per cui o ci sono dei rallentamenti o ci sono degli abbandoni. Lei capisce che l'investimento che si fa all'inizio rispetto al risultato finale è debole da questo punto di vista. A noi questo, con le nostre dimensioni e con gli investimenti che abbiamo fatto, questo dato non ci rallegra e di conseguenza vorremmo alzare decisamente il numero dei laureati, seguendo il più possibile appunto il percorso di studi e le motivazioni che man mano si costruiscono i nostri studenti. Ecco, professore, lei ha fatto un invito ai sindaci dei Trecrapoluoghi affinché uniscano le forze e le risorse a favore di quest'università. Sì, questo per due ragioni. La prima è che nessuna delle nostre iniziative è stata fatta autonomamente dall'Ateneo, ma è sempre stata condivisa con le istituzioni dei vari comuni sede dell'Ateneo. E quindi c'è questo ottimo rapporto già interattivo che l'Ateneo oggi intrattiene appunto con le istituzioni locali e che va ulteriormente cimentato e saldato e sviluppato da questo punto di vista. Quindi vorremmo fare un salto di scala dentro a questo processo di interazione, per cui decidere non soltanto con Vercelli quello che si fa a Vercelli, ma decidere anche con Alessandria e Novara quello che si fa a Vercelli e viceversa quello che si fa a Novara o Alessandria anche con gli altri due comuni sede. Credo che sia un buon modo per trovare degli accordi e degli aggiustamenti complessivi che costruiscono un progetto comune tra questi Atenei. La seconda ragione è dovuta al fatto che le dinamiche sociali, economiche e culturali di questi tempi non vanno dal punto di vista del progetto, non devono essere frammentate, ma invece devono trovare una giusta coesione. Non è dividendo o dividendoci che vinciamo, ma è invece facendo squadra e soprattutto rinforzando la squadra che si ottengono dei grandi risultati. A me sembra che almeno nel Piemonte orientale questa squadra non possa annoverare le rappresentanze territoriali e questa squadra non possa oggi non avere nelle circostanze che stiamo vivendo un progetto comune. Ecco, professore, concludendo, 13.000 iscritti rilevano un numero importante di gradimento tra gli studenti. Quanto gradimento c'è dall'altra parte, ovvero i docenti vengono volentieri a insegnare in periferia, diciamo così? Certamente. Intanto mi preme sottolineare la prima parte della sua domanda. È verissimo. I risultati che abbiamo ottenuto nell'ingresso tra le top ten a cui lei si riferiva sono dovuti anche, in questi risultati è compresa la valutazione del gradimento degli studenti. E i nostri studenti, il 90% dei nostri studenti, afferma che si reiscriverebbe nel nostro Ateneo. Quindi vuol dire che la soddisfazione è alta. Beh, se la domanda esprime questa soddisfazione, evidentemente l'offerta deve essere congrua, è congrua. Io credo che i nostri docenti vengano volentieri o comunque svolgano la loro attività volentieri nel nostro Ateneo. Intanto perché, credo che sia indiscutibile e può essere visto direttamente nelle nostre sedi, le attrezzature non sono soltanto per la didattica, ma sono anche state sviluppate per la ricerca e in modo anche corposo. Tenete conto che abbiamo dei gruppi di ricerca che vincono progetti europei dove altre università molto più blasonate della nostra non ci arrivano, né in Italia né all'estero. Il premio che diamo tutti gli anni alla ricerca, credo che sia ai ricercatori che hanno attratto fondi o hanno tenuto risultati significativi, credo che sia emblematico. Insomma, quest'anno abbiamo premiato il gruppo che evidentemente ha attratto di più, ma sono 5 milioni di euro dall'Unione Europea, che non è irrilevante 5 milioni di euro. Ecco, se confrontiamo i nostri stipendi con questo... Grazie professore, buon lavoro. Grazie.